Raggiunto l'obiettivo RSA, la partita si gioca ora per il destino dell'ospedale Sacra Famiglia di Nova Feltria. Lunedì 4 febbraio, presso il municipio di Nova Feltria, si sono riuniti il consigliere regionale Roberto Piva, i sindaci e gli assessori dei sette comuni dell'Alta Valmarecchia. Non c'è nessuna blacklist degli ospedali, puntualizza Roberto Piva, in merito all'elenco stilato da Tiziano Carradori, direttore generale della Sanità regionale, con i 25 nosocomi della regione, destinati a diventare delle strutture di comunità. Il pericolo di depotenziamento per il Sacra Famiglia c'è. I sindaci dei sette comuni dell'Alta Valmarecchia fanno quadrato contro un depotenziamento che non può essere affrontato, considerando l'ampia utenza servita, circa il 40% di tutto il territorio della provincia e la sua allontananza dall'infermi di Rimini. Il sindaco Lorenzo Marani è removibile al motto di abbiamo già dato. L'ospedale di Nova Feltria, come ha giustamente detto il consigliere Piva, ha già dismesso la ginecologia, la ostetricia, la chirurgia è stata ridimensionata, il laboratorio analisi parimenti, la presenza su 24 ore dell'anestesista è stata tolta. Quindi noi, però avendolo già fatto, vorremmo dire che quello che abbiamo adesso deve rimanere, perché se togliamo ancora qualcosa perde l'efficacia e l'efficienza della struttura. Marani cita Tonini, l'ex direttore generale dell'Ausle di Rimini, che aveva definito l'assetto attuale una situazione ottimale di funzionamento per le sue caratteristiche e per l'utenza servita. Un assetto che ha portato però a delle limitazioni mal digerite dalla cittadinanza. Se qualcuno mi chiedesse se è stato fatto bene o male chiudere il punto nazista in Nova Feltria, direi di sì, per esempio, perché ormai è a livello ultra nazionale europeo che sotto un numero, uno standard di parti, non c'è più la sicurezza, non c'è più tutto quello che può comportare un'emergenza legata appunto a un parto che si può presentare normalissimo fino all'aspettamento dello stesso, poi nel giro di pochi secondi, pochi minuti può degenerare una crisi difficilissima e drammatica sia per la mamma sia per il bambino. La partita è dunque tutta da giocare, il consigliere Piva però rassicura per la risoluzione della vicenda legata all'RSA è stata decisiva la collaborazione tra regioni e denti locali, una collaborazione che non diventerà ostilità relativamente al futuro dell'ospedale Sacra Famiglia. È sempre un lavoro da fare assieme, nessun uno contro uno, conferma Piva. Tempi comunque lunghi perché prima dovrà andare a regime l'importante riforma della Ausle Unica Romagna.